ciao a tutti ragazzi e ragazze bentornati sul mio canale come prima cosa vi ricordo subito se ancora non l'avete fatto di iscrivervi al mio canale cliccando il tastino che trovate proprio sotto il mio video e attivare la campanella così da non perdere le prossime uscite e che vi aspetto anche su instagram mikimakeup79 lì sono molto attiva quindi avremo modo di conoscerci e interagire di più video sulla nostra spesa settimanale siamo stati da lidl e da risparmio casa e stiamo con l'idl a lidl abbiamo preso io io motta le merendine della io io motta che stavano in offerta con le mochi snack delle patatine grigliate le patatine grigliate quelle che prendiamo sempre perché sono buonissime nastrecce che sarebbero tipo le nestrine buone anche queste buone 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 poi campo largo fagioli borlotti e lenticchie fagioli borlotti e lenticchie in barattolo e sono da 260 2 40 e 260 grammi bella rom sensazioni espresso le capsule per la modo mio espresso cenne salviette della cenne struccanti per pelli grasse abbiamo speso 52 euro e 29 centesimi ci stanno pure le altre due buste milbona yogurt greco senza grassi due yogurt grechi dove proviene il mio nome di nicolas tacchino e pollo cotolette di tacchino e pollo e sono 440 grammi campo largo riso e grano saraceno riso e grano saraceno e sono 350 grammi finkere milk cioccolato al latte 100 grammi al lato cioccolato al latte 100 grammi soprattutto in tedesco milk cioccolate l'acqua la classica quadruccia alla carne scogliattolo poi una bottiglia della saguaro d'acqua l'acqua naturale il vino del murale c'è un vino bianco delle tre venezie tre venezie un vino bianco delle tre venezie freddo della pesca al freddo della pesca passa a papà pera papà Guarda papà Oceansi Schlepmer filetto di merluzzo d'Alaska Filetto di merluzzo d'Alaska Alla Bordelais Alla Bordelais 400 grammi Perchè ridete solo? C'è un po' di genesco in francese Patata del fucino di cacca Ecco, ripartete? Penso a parole, vai Riso, 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 carmaroli, carboiled Riso, questo ha un chilo di riso, un chilo di riso Chilo di riso Chilo calorie Nix Mi dici l'acqua? E poi passala Tonno a piene gialla All'olio Vabbè, una cassa di ferrarella, la vuoi dire? Una cassa di ferrarella, eccola la Poi il tonno da 240 grammi Mi la mixi come il negozio di trucchi di mamma no magari è la mia apemai albume d'uovo albume d'uovo poi l'altra Lidl è questa perché ci stanno due Lidl? c'è un'altra borsa abbiamo preso biscotti di frozen della Delser fiocchi di cioccolato con gocce di cioccolato di frozen ocean sea 15 fish bastoncini di pesce 15 bastoncini di pesce di merluzzo dove stanno i biscotti? gastronomia di mare filetto di salmone con pelle filetto di salmone con pelle quello che prendiamo sempre AIA Aequilibrium petto di pollo petto di pollo 140 grammi come stanno 140 grammi in testa? oh basta un po' ti gonfio muo' milbona yogurt drink alla fragola quello da bere noi facciamo boxe venite pure voi in palestra azzurra un mango un mango cagna quinoa alle verdure quinoa alle verdure la cagna quella della tatuatrice di mia madre florali strefax 3 rotoli per i bavosi 3 rotoli 3 rotoli per bavosi 3 rotoli per bavosi make up parts i parts per il make up si che erano che cosa? gioio non stulcherate vallerica e salata ricca parima salata ricca della vallerica parima poi adesso passiamo da risparmio casa abbiamo preso mi sono presa questa tazzina una tazza una tazza con scritto love a Diego questi vanno al frigo dico io dico io questa bottiglia dico io una bottiglia in vetro che serve a Diego una bottiglia una bottiglia è molto di più smack express bagno smack express bagno e sta in offerta l'isofor bc gel l'isofor bc gel tutto in uno amuchina liquido pavimenti ah guarda è riuscito i passi non scotta se che è riuscito amuchina per pavimenti igiene profonda senza risciacchi tantum verde cola e anche questo stava in offerta spero che è rimasta ancora un po' smacchio quello che uso io per i pennelli sono un isis guarda tutto il sale macchiato sono stati l'isis come me sale risparmio casa sale per lavastoviglie e questo è un chilo dermomed intimo ph annarbelletico si dermomed intimo ph 4.5 antibatterico pastorizzamente pecorato abbiamo speso 32 euro e 41 centesimi da risparmio casa a 2.0 a 2.0 abbiamo preso risparmio casa 60 tovaglioli doppi velo decorabili i tovagliolini stavano in offerta 99 risparmio cazza 100 bicchieri i bicchieri quelli trasparenti il pacco da 100 fabuloso più morbido nemmeno lo shampoo per la lavatrice si lo shampoo fabuloso a vaniglia orchidea e ammorbidente e stava a 99 centesimi poi da risparmio casa ho trovato il mio amato bioform plus l'igienizzante quello bianco questo è il top e adesso vi dico quanto lo fanno da risparmio casa comunque poco comunque e 25 lavaggi questo è fantastico contenitori cosmetici della risparmio cazza questo per i rossetti ho preso l'acqua naturale quadruccio 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 che ce l'avevano 99 centesimi presto tescoma questo per il lavandino goniometro della scatto il goniometro per Nicola un ombrello pieghevole che stavano 1,49 euro e poi avevano i prodotti dei provenzali in offerto ho preso i cristalli liquidi con olio di semi di lino ho preso anche un altro degli stendini questi qua per da appendere al termosifone perché stavano in offerta 2,75 euro sono comodi per l'inverno ma anche per l'estate ho un problema con la testa funziona la metà ogni volta che parte il suono che fa andiamo a comandare allora bioform sta a 1,95 euro da risparmio casa e quindi niente questa era la nostra spesa settimanale per oggi poi come al solito ci sarà l'aggiuntina bacini ciao allora aggiunta della spesa settimanale abbiamo preso il caffè quindi la solita scatola di gattopardo quella rossa e avevamo lo sconto questo mese quindi ci è venuto 16 euro invece che 21 ci sono pure io ciao poi a Lidl gastronomia di mare filetto di salmone salmone quello con pelle sono 250 grammi un vermentino di sardegna un vermentino di sardegna un vermentino di sardegna vitador olio di semi di girasole guarda che fiori guarda che scorbi girasole l'olio di semi di girasole un litro su serio io li odio davvero i girasoli tacchino in pollo polpettone tradizionale cinese un polpettone che cinese un polpettone di pollo e tacchino e sono 750 grammi ve lo vedete mulan che classico polpettone ve lo vedete mulan voi noi diciamo aspetta e molti rispondono ecco qui il mio tè tè alla pesca lo dobbiamo far vedere c'erano tutti baby tè a nicolas che mi piacciono ok pagato visto e poi pancetta a cubetti leggermente affumicata e sono 200 grammi noci californiane noci californiane e sono 200 grammi e abbiamo speso 33 euro 100 euro no 33 euro e 73 centesimi quindi mia mamma valerica mista sottile valeriana perché è valeriana mista sottile prendiamo sempre 180 grammi è valeriana come quella di calimero a medicina nutella bireti nutella bireti avocado mango prendiamo sempre il mango italiano pecorino romano top grattugiato pecorino romano top grattugiato se c'è una storia che non trova pace il purio mio con me sacchi per la pattumiera e questi sono 20 sacchi che vive di ogni cosa è una storia nix tonno tonno pinne gialle quello della nix è il barattolone da 240 grammi quanto vorrei che lo fosse però saremo pan baoletto integrale della certa ossa pan baoletto e sono 400 grammi penna grigia penna grigia è la matita per le sopracciglia io uso queste della cenna sono buone penna grigia ocean sea filetti di merluzzo d'alaska con formaggio fuso a nerd questi sono buonissimi sono filetti di merluzzo d'alaska appunto con formaggio fuso un pan di zenzero senza panna e lo zenzero quindi per ora era questa poi come al solito ci saranno le aggiuntine ciao ciao è finito ciao ciao ciao